Siamo notati Gesù e Maria, abbiamo ricevuto la grazia molto grande di celebrare la Santa Messa raccolti in forma personalizzata, quindi si può parlare dentro il contesto di questo determinato che stiamo vivendo e qui è il luogo dove il miracolo che poi andremo a contemplare, di cui abbiamo già avuto informazioni, è avvenuto prima di qui, questo è il luogo dove è avvenuto questo primo incantico miracolo calistico. Sappiamo che abbiamo già sentito l'ostia si è convertita in cuore vivo radato, cuore che si muove nel motivo per cui all'interno è vuoto, l'abbiamo sentito dire, dipende dalle contrazioni, nel fatto che l'abbiamo inchiodato e poi si è dovuto in forza di cose di grande, così come il sangue è stato analizzato, è sangue raggumato ma è sangue vivo, 5 grumi di sangue, qualcuno ci è già arrivato, 5 sono le piaghe di Gesù Procifisso, le mani, i piedi, il costato, ma secondo un'antichissima tradizione acclarata da alcune fonti, come sapete che al momento dell'incarnazione il primo organo che si è formato di Gesù è il cuoricino, da 5 gocce di sangue era un'ordine, che sono della materia che pure lo Spirito Santo ci ha lavorato per plasmare l'umanità di Gesù, quindi tanta roba eh, ovviamente tanta... Abbiamo intitolato questo pellegrinaggio dal volto al cuore di Gesù, che stiamo davanti al cuore abbastanza paresi, no? Qui c'è quella con le iscrizioni che dice che in questa chiesa alto medievale di San Lemosiano la fede di un monaco basiliano subì un cedimento e si vedò il mistero. Capite? Cioè, allora, una prima considerazione, non è facile credere all'eucharistia, le iscrizioni, le due statue che stanno, le vedremo poi, una rappresenta la fede e una rappresenta la carità. Anche ieri militando sul volto di Gesù, il volto di Gesù è un mistero di fede, perché il mondo di Gesù ti fa conoscere qualche cosa che tu devi conoscere. Dopo la consagrazione si dice misterium fidei, perché niente i nostri sensi ci dicono, eh, ecco perché qui la cede ho avuto da quel tapeto con un cedimento, perché Gesù ha fatto vedere cosa succede, ma questo non è che è successo solo lì. Come dico sempre quando commento un miracolo eucharistico, un miracolo eucharistico è un mostrarti ciò che sempre accade, solo che quello che accade sempre ordinariamente è vedato, d'accordo? non te ne accorgi. E ogni tanto il Signore alza un piede, come diceva il Padre Pio, sapete quando gli chiedevano, ma tu com'è che leggi i tuoi e conosci i tuoi? E ogni tanto il nostro Signore deve fare leggere qualche pagina del suo libro, poi la picca, capito? Così, quindi non è facile, però il nostro Signore ci ha dato dei segni forti di fede, capite? E poi, ripeto, anche oggi essere qui non si torna qui come si è arrivati, perché tu da oggi lo sai, e come vi dicevo ieri, io che ci tratta da persone intelligenti, capite? Cioè, vabbè io non ci credo se non sono mentali, ma di fronte alle prove della scienza, alle analisi del sangue, dei tessuti, non sta niente da fare, capite? Certo, uno potrebbe stare a dire, ma chi lo sa, destra e sinistra, però sono cose abbastanza grosse. Allora, gli eucaristia però parte dalla fede, ma termina nell'amore, perché l'eucaristia è chiamata anche il sacramento dell'amore. Capite anche la connessione stretta che c'è tra l'istere dell'eucaristia e le rivelazioni del Sacro Cuore. Sacro Cuore, la festa del Sacro Cuore, con la volontà di Gesù, si celebra al giugno dell'ottava del Corpus Domini, e la principale devozione del Sacro Cuore è il Paso Sonno, è la comunione di parlatrice dei primi nove e tre mesi, quindi c'è proprio un esso incendibile tra il cuore di Gesù e l'eucaristia, perché l'eucaristia non è altro che il cuore pulsante vivo di Gesù per noi. Allora, l'eucaristia deve diventare per noi esperienza di amore di Gesù in tutte le sue dimensioni. Nella Messa, perché nella Messa Gesù è la comunione, abbiamo citato qualche volta la Madonna di Međugorje, mi si perdonarà se la faccio un'altra volta, insomma, anche se sempre con un famoso rispetto per eventuali pronunciamenti diversi della Chiesa. La Madonna una volta, il regente di Međugorje, disse queste cose, guardate che se c'era apparizione o c'era Missa, voi dovete andare a Missa, te pare una Madonna, perché fare la comunione è più che essere veggenti. Noi pensavamo magari che apparisse una Madonna, se tu ti puoi fare la comunione, che ti sei confessato, che ti cerchi di dire in grazia, è più che se vedessi la Madonna, perché se tu vedi la Madonna, comunque la vedi lì fuori, certamente è un'esperienza bellissima, no? Ma la vedi, vedi qualche cosa che ti è fuori, ma Gesù ti entra dentro, diventa una cosa solo con noi, carne della nostra carne, sangue del nostro carne, del nostro sangue, anima della nostra anima, cuore del nostro cuore, vita della nostra vita. Qui è amore donato, offerto qualche vita, cioè, è offerto gratuitamente, perché l'amore quando è vero, si dà senza imporsi. Però dobbiamo pensare, Gesù quando è arrivato al Sacro Cuore, che ci sono detto, perché la comunione è riparatrice? Voi immaginate un processo, abbiamo pensato ogni tanto, come può stare lui nell'Eucaristia dove c'è, vedendo degli uomini, dei quali, tutto questo è stato fatto per noi, questo è stato il mio corpo, offerto il sacrificio per voi, non per me, il sangue è pensato per voi, per tutti. Voi immaginate come può stare lui, che ha fatto queste cose e quando gli va bene, perché sicuro vede se è fortuna, dicevi in cambio, non me ne importa niente, l'indifferenza che a volte è peggiore dell'occhio, oppure gli sfregi, i sacrilegi, le priverenze, cioè i rischi anche, no? Se una persona va a farsi la comunione che non si è confessata, sta in grazia di Dio. Noi ci rendiamo conto qui, ma diceva il caro Don Modestino, Buonanima, forse qualcuno se lo ricorda, il papo storico di Santa Maria Coretti, quando ha fatto la comunione che non si è confessata, diceva, bravo, hai messo Gesù Cristo dentro un letamaio, come l'avessi messo, l'avessi messo dentro una tonnellata di letame, e la gente rimaneva, se lo dicessero oggi, provano a denunciare che era la spugneazione di qualche santo assente che ha terrorizzato le persone, ma è così però, capite? E Gesù sta zitto, buono, tranquillo, intanto quando ci pensano queste cose veramente mi perdono, quindi capiamo? Il fatto che Gesù sia presente al microscopio, cosa c'è? Voi, mica pensate che hanno preso, cioè, per fare un'analisi, che cosa hanno preso? Delle particelle quasi impercettibili, qui torniamo sempre al discorso dei frammenti della comunione, capito? Cioè, un frammento impercettibile, tu non lo vedi, ecco perché ci vuole sempre la massima differenza possibile nei confronti dell'Eucharistia, che io chiaramente consiglio, anche se oggi ci sono tante forme ammesse nella Chiesa, però, io ho sempre detto, cioè, se tu ci credi fin in fondo, proprio fin in fondo, senza voglio giudicare nessuno, no? Io in coscienza non sarei proprio uno, cioè, io già sto, non è che sto terrorizzato perché sto tranquillo, insomma, però sto attentissimo dovendo celebrare la Santa Messa, capite? Perché è chiaro che io non l'ho fatta apposta, perché se uno prende e butta per te una ostia, è scomunicato e ci vuole la perdona del Papa, e se uno fa una cosa di questo genere, un ostia che cade per terra, per esempio, è una tragedia, capito? Perché dall'ostia che cade per terra sicuramente si sono staccati dei frammenti, sicuro, anche se per terra non si vedessero, è impossibile, perché i nostri occhi sono limitati, e che succede? Che risopra Gesù Cristo viene messato, cioè, non è una cosa bella, capito? Adesso qui, adesiamo sempre, ci credi o non ci credi, vede? Comincia nella fede, ma poi termina nell'amore, perché se tu ci credi veramente, è chiaro che moltiplicherai tutte quante le forme di attenzione possibile, capite? Perché il nostro, cioè, io arrivo in una comunità, questo succede sempre, no? Vedete, la fede è importante, la formazione è importante, tu vai in una comunità e vedi che durante la consegnazione tutte le persone stanno in piedi, ma che significa questo? Che non si rendono conto di quello che sta a succedere, solo questo, perché se si rendono conto, non è che si mette il ginocchio, se si sdraia per terra, se si rosa, si mette sotto terra, si mette, per quello che succede, capite? Perché? Perché è un ricambio di amore, d'accordo? Cioè, se tu mi ami fino a questo, ma come è minimo, capite? Quando non funziona l'amore, non funziona la fede, perché il rapporto con l'Eucalistia si compie quando Gesù viene ricambiato da noi amore con l'amore, se tu ti sei fatto la comunione e c'hai, non posso dire parolacce che stiamo, c'hai la sedia elettrica che ti freme, che devi scappare e cannattene subito, capito? Tu c'hai Gesù Cristo vivo dentro di te, se c'hai la cosa che ti freme, che te ne vai via, tu non ci credi, o non ci credi o sei, come dire, un ingrato, capite? Come dire, una persona che sta ripagando male tutto quanto l'amore che c'ha avuto Gesù, no? Capite? Cioè, noi dobbiamo, non si tratta di giudicare nessuno, capite? Perché i nostri comportamenti sbagliati, oggettivi, anche inconsapevoli, dipendono sempre da una carenza a... Questo che è importante, formare la fede, perché se formi la fede e se tu ci credi veramente, è chiaro che i tuoi comportamenti saranno... non è che c'è bisogno che viene il prete a dirti e ti tira il collo, no, mettiti in ginocchio, sennò fai peccato mortale, è vero che fai peccato mortale, ma tanto... Cioè, tu ce devi arrivare, devi capire... Non te ne andaggi la spasso dopo che ho fatto la pungione, perché ti porti a spasso a Gesù Cristo, guarda che poi, cioè, è una cosa brutta questa qua, ma non c'è manco bisogno che te lo dico, ci arrivi da solo, capito? Quando passi davanti al tabernacono, non per dare l'aria, ma fagli un gesto di amore e d'adorazione a Gesù, ci arrivi da solo, se interiorizzi tutte queste cose, capito? Allora, ecco, anche qui, ringraziamo il Signore per quello che ci ha donato, un solo riferimento alla liturgia della parola che abbiamo ascoltato, no? Avete visto questa vetola? Che fa? Da tutto! Un soldo, un euro, non magna quel giorno, ma questo non gli ha neanche pesato, perché quando tu ami, provate a pensare quando noi amiamo, quando una cosa religiosa te pesa, perché te pesa? Perché non ci sta amore, non te ne frega niente, scusate, non te ne importa niente, ma tu il nostro Signore lo ha, lo dìmelo a me, cioè, tu fai che il nostro Signore viene attivato a buttare il film, io ci vado subito, eh, capito? Ma sei immediatamente, cioè, anche se dovessi chiedere un grandissimo sacrificio, una grandissima cosa, se tu a quella persona l'ami, se te lo chiede, ma ti senti onorato che te lo chiede, così te lo posso dimostrare quanto te lo voglio bene, non ti pesa? Capito? Quindi noi le dà un mazza, la vero, no? Le dà un butto, eh, che eroe! Sì, certamente ha fatto un atto eroico, ma se tu ami, questa Dio lo amava, capito? Perché dice, questo è il Tempio di Dio, questa è la sua casa, e questo ciò, eh, questo te lo posso dare, ma te lo davo tutto al cuore, e oggi non mai, e pazienza, ma andiamo domani se Dio vuole, capito? Cioè, si fa in questo modo, cioè, non è, se tutto ti pesa, te lo fia, te lo fia, te lo fia, capito? Non funziona l'amore, ma se non funziona l'amore, in ultima analisi non funziona la fede, ecco quello che stiamo vivendo un pochino in questi giorni, Io non aggiungerei altro, ce l'abbiamo adesso con calma, grazie a Dio, questa santa messa, ecco poi anche qui avremo modo di sostare, dopo la messa, cerchiamo di vivere al massimo di mezzogiorno, casuale possiamo fare l'angelo tutti insieme per andare via, dopo di che abbiamo una mezz'oretta che ce la prendiamo per noi, sia per fare il ringraziamento quanto bene, per chi vale l'amore, sia per chi vuole sostare, e se lo farà anche in chiesa, insomma, davanti all'immagine miracolosa di Gesù Eucharistia. Vi vi ho dato una cosa, il confronto di Gesù Eucharistia, e concludo con queste parole, non è mai abbastanza, tutto quello che ti vuoi inventare, stessi pure un mese di seguito in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento, come hanno avuto alcuni santi, Santa Margherita, una notte passò quella del Sacro Cuore, quattordici ore di seguito, notturne, inginocchiata, mani giunte senza muoversi davanti all'Eucharistia, come ho avuto quattordici ore su tanta tanta roba, eh, senza muoversi, così. Ma questo è niente in confronto a quello che Gesù si mediterebbe, capite? Qui ti fa capire quanto amava anche questa donna, quindi. Con l'Eucharistia non è mai abbastanza, perché cosa più grande di questa Gesù non poteva farcela, e guardate, chi ha amato in questa terra Gesù che ristia in un altro modo, che il purgatore non se lo farò proprio niente, eh, zero assoluto, nera ancora con l'ora di carriera fratello, perché chi ricambia l'amore con l'amore, quando arriva un momento di sorella morte, il nostro Signore se lo prende e se lo porta, perché l'amore tutto consuma, tutto brucia, quando è autentico, ci purifica, ci santifica e ci consente di rispondere a Gesù, l'unico modo con cui si deve rispondere. L'amore, dicevano i santi, con l'amore, ci paga. Siamo notati Gesù. Sempre che siamo notati. Grazie. 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 Grazie.